Annuncio ritardo. Il treno Intercity delle ore 18 e 15. Il treno Eurostar City delle ore 17 e 55 proveniente da Venezia Santa Lucia è diretto a Torino Porta Nuova e in arrivo al binario 6. Annuncio cambio binario. Il treno Frecciarossa per Napoli. Treno in arrivo al binario 15. Allontanarsi dalla linea gialla. Grazie.